Chi si chiama Maria tende ad essere una persona perfezionista, chi si chiama Michele tende ad avere problemi a raggiungere obiettivi materiali, chi si chiama Rosina tende a comportarsi sempre in maniera infantile. Ciao, qui Danilo Maruca di diritto alla meta.it e in questo video voglio spiegarti qual è il significato che hanno i nomi sull'inconscio. Quello che devi sapere è che i nomi sono per l'inconscio degli ordini precisi, sono come dei mantra che hanno un potente effetto e questo le persone lo ignorano, quindi partiamo proprio dallo scrivere che i nomi hanno un profondo impatto sull'inconscio. Sono degli ordini precisi. Bene, il nome è il primo regalo che viene fatto al neonato e in questo modo lo si distingue dall'intera famiglia e tramite anche il cognome si distingue quel neonato da ogni singola persona che esiste sul pianeta. La psiche infantile si riconosce in quel suono con cui costantemente si attira la sua attenzione e finisce per incorporarlo nella propria esistenza. Nella maggior parte dei casi però, poiché le persone ignorano che l'inconscio lavora per simboli, scrivo anche questo che è una cosa importante, l'inconscio lavora per simboli e ogni nome contiene difetti e qualità. Poiché si ignora completamente che un nome dà ad un neonato sia dei difetti ma anche delle qualità, quello che succede è che solitamente si tende a far rinascere una persona che ormai è morta all'interno della famiglia dandogli il nome del nuovo bambino. Si cerca di camuffare il desiderio di far rinascere un proprio antenato e l'inconscio può camuffare la presenza di un defunto non solo ripetendo il nome per intero, per esempio in molte famiglie per far rinascere il nonno si dà il nome del nonno al primo genito oppure si può dare il nome di un bisnonno o di un'altra persona all'interno della famiglia. Ma questo è già un problema, il problema ancora maggiore è quando dietro a quel nome, dietro a quella persona c'è una storia segreta magari di malattie particolari, magari legate al carcere, magari legate alla prostituzione o a devizi particolari quindi scriviamo anche questo e quindi il nome se è aggravato da una storia segreta prostituzione, malattie particolari è cose poco conosciute di quella persona quindi potrebbe essere un po' di tutto io scrivo qua carcere e vizi ma ci sono tantissimi casi comunque se c'è una storia segreta se il nome è aggravato da una storia segreta è un problema per il neonato perché il suo inconscio tenderà a far rivivere a quella persona che porta quel nome le stesse identiche cose perché il suo inconscio del neonato fare in modo che quella persona riviva più o meno le stesse identiche cose perché noi ci portiamo i nostri difetti diciamo dell'albero genealogico per poterli trasmutare e quindi se quella persona prende proprio il nome di una persona che ha avuto determinati problemi tenderà il suo inconscio a fargli rivivere determinate situazioni queste sono delle regole generali però se una persona riceve il nome di un derivato di un concetto sacro tipo immacolata che deriva da immacolata concezione immacolata assunta concetta sono dei nomi che derivano da derivati di concetti sacri queste persone possono percepire questo nome come un ordine e quindi avranno dei problemi sessuali quindi scriviamo nomi che derivano da concetti sacri immacolata e concetta poi ce ne sono tanti altri però prendo questi qui nomi che derivano da concetti sacri lo facciamo in rosso possono avere problemi sessuali tutte le persone che hanno per nome di battesimo quello di un angelo tipo raffaele gabriele celestino eccetera potrebbero avere difficoltà a raggiungere obiettivi pratici e materiali quindi scriviamo nomi di angeli e derivati anche angelo per esempio è il nome di un angelo da questo punto di vista quindi questo lo facciamo in nero quindi abbiamo nomi tipo gabriele michele angeli o arcangeli è la stessa cosa raffaele raffaele eccetera possono avere grandi difficoltà ad incarnarsi si dice comunque incarnarsi in realtà a realizzare obiettivi pratici e realizzare obiettivi pratici poi ci sono nomi tipo emanuele cristiano cristoforo pasquale e sono legati in qualche modo alla figura di cristo alla figura di gesù e poiché gesù è morto all'età di 33 anni queste persone potrebbero vivere delle gravi difficoltà proprio a 33 anni potrebbero quindi per esempio essere vittime di incidenti potrebbero avere problemi economici o potrebbero vivere delle gravi malattie quindi nomi nomi legati al nomi legati a gesù gesù ma vabbè questa è una cosa che non preciso ma non importa non fa niente non ho detto nulla ok nomi legati a gesù tipo emanuele cristoforo eccetera eccetera qua lo sto facendo con tanti puntini comunque eccetera eccetera qua lo sto facendo con tanti puntini che è il risultato di un desiderio inconscio di risolvere determinate situazioni dolorose nella famiglia per esempio se un uomo da bambino era stato separato dalla madre chiamerà suo figlio giovanni maria realizzando nel doppio nome il desiderio di unirsi a lei se un bambino muore quello che nascerà successivamente potrebbe chiamarsi per esempio renato se un nostro antenato è stato incarcerato e questo ha portato una grave vergogna a tutta la famiglia uno dei suoi discendenti potrebbe chiamarsi innocenzo questo perché tutto quello che noi facciamo lo decide il nostro inconscio e questi meccanismi le persone le ignorano perché le persone non si osservano quindi una persona dà il nome al proprio figlio senza notare che in realtà c'è un desiderio inconscio di far rinascere o di ripulire una situazione che c'è stata in famiglia se una donna tormentata dall'idea dell'incesto sposa un uomo che ha lo stesso nome di suo padre rischia di generare dei figli che avranno problemi di tipo generazionale nel senso che inconsciamente vivendosi come figli del nonno riterranno la madre come una sorella e non come una vera madre il che ne farà degli eterni immaturi se dopo una bambina nasce un bambino con cui verrà dato il nome di lei al maschio per esempio Antonia seguita da Antonio o Francesca seguita da Francesco e così via questa scelta potrebbe rilevare che la nascita della bambina sia stata un'enorme delusione per i genitori e la giovane donna considerandosi la brutta copia di un futuro uomo rischia di disprezzarsi e sentirsi incompleta per tutta la vita a meno che non fa un lavoro serio di crescita personale per modificare questa cosa i nomi che derivano invece da tutte le star del cinema o da attori famosi, scrittori famosi o comunque persone famose impongono all'inconscio di quella persona di aspirare alla celebrità cioè comunque a raggiungere dei grandi successi per esempio il calciatore Cristiano Ronaldo ha nel nome Cristiano che deriva dalla fede cattolica della madre e Ronaldo in realtà sarebbe Ronald Reagan deriva da Ronald Reagan che è un attore che amava suo padre poi diventato presidente degli Stati Uniti e poi diventato famoso in tutto il mondo il fatto che Cristiano Ronaldo abbia ricevuto il nome di una persona famosa questo imprime nel suo inconscio il desiderio a sua volta di emulare quel personaggio e quindi a sua volta di diventare una persona famosa quindi qua riportiamo nomi di persone famose piazziamo il rosso si tende ad emularle vabbè comunque portano a voler vivere diventando famosi a propria volta quindi portano a voler avere successo ok poi un altro caso molto diffuso sono i genitori che trasformano i nomi dei propri figli in diminuitivi tipo Rosina Rina Pepe Lola E questo per l'inconscio porta a bloccare queste persone nella propria infanzia e a non diventare mai degli adulti completi quindi nomi con timi in diminuitivi tipo Lola Pepe Pepe eccetera possono bloccare con 50C bloccare l'evoluzione di queste persone questo qua lo metto in rosso ok un'altra categoria di nomi molto diffusa sono i nomi dei santi che includono delle qualità ma trasmettono anche l'idea di un grande sacrificio alle volte di un martirio alle volte di una crucifissione abbiamo per esempio un nome molto diffuso chiaramente il nome Maria e chi porta questo nome solitamente è una persona che tende ad essere perfezionista perché ha avuto beh la Maria più importante è la Madonna e ha avuto il bambino perfetto e queste persone che portano il nome Maria anche nel doppio nome magari una persona si chiama Lucia Maria o Giovanna Maria o qualche altro doppio nome con Maria se portano il nome Maria possono sentirsi sempre in difetto perché non sono mai perfette o possono sviluppare la paura di dover generare il bambino perfetto quindi chi porta il nome Maria tende ad essere una perfezionista una perfezionista non so se si dica in questo modo però comunque si rende l'idea tendono alla perfezione ad essere troppo precise e dure con se stesse mentre per esempio chi porta il nome Giuseppe potrebbe avere anche problemi a soddisfare una donna penso che a furi di fare esempi stai iniziando a capire come ragiona l'inconscio Giuseppe dovresti prendere in base al nome qual è la persona più importante che ha portato quel nome e poi valutare alcuni aspetti della sua vita questo è valido se sono persone che hanno cambiato in qualche modo il mondo per esempio Gandhi o Martin Luther King o persone simili che hanno avuto un grande impatto quindi Giuseppe i Giuseppe diciamo così quindi lo scrivo al plurale possono avere problemi a soddisfare una donna il fatto che il nome abbia questi difetti non sto considerando anche le qualità però il fatto che un nome abbia questi difetti non vuol dire che tutte le persone che si chiamano Maria tendono ad essere delle perfezioniste ma semplicemente indica il fatto che ci sono alte possibilità che sia così poi non sempre così perché dipende da determinate cose legate alla famiglia all'albero genealogico più che altro se si dà per esempio ad una persona il nome di Valeria e a Santa Valeria hanno tagliato la testa le donne con questo nome potrebbero avere la tendenza ad impazzire o comunque a non sviluppare mai un forte mentale cioè a non sviluppare mai una buona capacità di gestire i propri pensieri alcune persone invece con il nome Mercedes nome che discende dal latino merces salario o pagamento possono voler intraprendere un'attività commerciale i nomi funzionano per l'inconscio come degli ordini precisi solitamente quando si danno dei nomi a delle persone lo si fa ignorando totalmente questo concetto però in questo video ti ho voluto ricordare che l'inconscio lavora per simboli ora cosa fare con queste informazioni dipende da te però io ti dico che ci sono tantissime cose riguardo all'inconscio che non vengono diffuse e lo farò anche in altri video non posso entrare molto nei dettagli di queste tematiche perché sono argomenti che vengono trattati all'interno delle sessioni di coaching quindi ti ricordo che se vuoi essere seguito da me per il raggiungimento del tuo obiettivo più importante ti aiuterò a raggiungere il tuo obiettivo in tempi record e puoi candidarti tramite il link che trovi nella descrizione di questo video ci sono tante cose che riguardano l'inconscio che posso tranquillamente divulgare e ci sono tante informazioni che è giusto che una persona paghi per averle perché cambiano veramente la concezione che hai della vita e ti portano a cambiare non solo la qualità della tua vita ma anche a raggiungere molti più obiettivi e risultati bene per questo video è tutto se non ti sei iscritto al canale youtube ti ricordo di iscriverti e ci vediamo al prossimo video ciao